È attiva da questa mattina in tutta la regione e nella provincia di Pesaro-Urbino la possibilità di effettuare i test sierologici rapidi nelle farmacie comunali e private del territorio. Una misura che si aggiunge al lavoro di tracciamento volto ad individuare gli anticorpi del virus tra la popolazione. Per effettuare il test classicamente definito pungidito e dal costo massimo di 19 euro sarà necessaria la prenotazione. L'esito dell'eventuale positività da confermare poi con un tampone molecolare o della negatività arriverà in circa 15 minuti. Abbiamo già aderito a Pesaro all'incirca una decina di farmacie tra comunali e private. Il test noi lo effettiamo in un locale esterno qualora non ci fosse la possibilità però si può effettuare anche in orario di chiusura della farmacia o comunque in un ambiente che non sia collegato direttamente con l'ingresso dei clienti per favorire una maggiore sicurezza. Il test è un autotest quindi è il cliente che deve fare un prelievo capillare di sangue dal proprio dito sotto la supervisione ovviamente del farmacista. Andiamo a ricercare gli anticorpi contro il coronavirus. Dobbiamo distinguere due anticorpi, gli immunoglobuline M che sono i primi della risposta immunitaria del paziente che possono comparire all'incirca dal quinto o sesto giorno di infezione fino al quindicesimo giorno di infezione. Quindi ci vanno ad indicare qualora fossero presenti che c'è uno stato infettivo attivo. Invece per quanto riguarda gli anticorpi immunoglobuline G sono quelli che intervengono in un secondo momento quindi nella fase finale dell'infezione possono rimanere anche dopo la fine della malattia e quindi ci possono andare anche a indicare che l'infezione è già stata contratta in passato. L'attendibilità è circa il 90% ed è importante che finalmente anche nelle Marche io ho portato due interrogazioni in Consiglio regionale per spingere a firmare questo accordo tra regione, farmacie comunali e farmacie private. Arriviamo purtroppo dopo altre regioni perché in Emilia Romagna sono quasi due mesi che è possibile fare questo test in farmacie, in Umbria e in Abruzzo già da diverse settimane. Secondo me è un passo fondamentale, ci siamo arrivati un po' in ritardo ma finalmente anche qua è possibile farlo. Nel frattempo si continua a discutere anche del grande screening di massa organizzato dalla regione Marche e che a Pesaro verrà attivato dal 18 dicembre. Fondamentale è l'individuazione delle sedi in cui si svolgeranno i test, come sottolineato dal consigliere regionale Andrea Biancani. Io me lo sto ormai dicendo da tempo che è importante sicuramente utilizzare i punti drive perché vengono utilizzati sia a Pesaro che a Fano, sia a Urbino solamente per tre giorni a settimana, quindi quattro giorni questi punti sono completamente liberi. Occorrerà individuare in tempi rapidissimi, secondo me io ho invitato anche l'assessore un attimino a essere un pochino più veloce perché si parte fra dieci giorni e ancora non sono state individuate quelle sedi dove le persone potranno andare. Il punto 3 potrà essere uno ma l'altro, ad esempio, un'altra soluzione potrebbe essere nella zona della fiera. Quindi mi auguro che in tempi rapidi vengano definiti anche perché occorrerà capire il modo con cui le persone potranno essere scelte perché non è che si possiamo trovare 10.000 persone o 2.000 persone che vanno un giorno a provare il test rapido, quindi occorrerà far capire le modalità e attivarsi anche per individuare una modalità che consente di avere delle file che poi consentono alle persone di poter fare in tempi rapidi quello che è il tampone antigienico.